Lo spettro delle destre, rappresentate dal sindaco uscente sostenuto dalla Lega, Francesco Perziani e Marco Guidi per Fratelli d'Italia, ha mosso la sinistra verso una ritrovata unione. E così, dopo innumerevoli tavoli programmatici, una parte delle forze del centro-sinistra, in particolare del PD, del civismo e dell'Alleanza Verdi-Sinistra, hanno convenuto sulla necessità di unirsi per arrivare a schierare un ticket elettorale in grado di offrire un'alternativa di progetto politico. Il passo indietro di Fabio Evangelisti a favore del candidato PD Enzo Romolo Ricci è l'inizio, come si legge dal comunicato stampa inviato alla redazione, di una stretta collaborazione fra i due candidati. La nuova composizione, aperta ancora ad altre forze di sinistra, non ha però lasciato indifferente Guido Mussi, candidato per il Partito Repubblicano Italiano, il quale si è detto deluso per le modalità con cui si è arrivati a questa decisione che non li avrebbe visti coinvolti. Di sicuro, comunque, questo nuovo assetto sposta gli equilibri, aprendo una nuova e decisiva fase della campagna elettorale, che ora vede un soggetto capace di contrapporsi alle destre.